Buonasera e benvenuti al TG7 Basilicata. Apriamo questa edizione con la notizia di un bando importante. È stato infatti emanato un avviso pubblico per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale a supporto del settore turistico nel sud Italia. L'obiettivo del bando è sostenere interventi per il rafforzamento dell'attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola e media dimensione attraverso il restauro e recupero di spazi urbani edifici storici o culturali nonché elementi distintivi del carattere identitario. L'intervento è volto inoltre a sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio-economico nei territori beneficiari. Ricordiamo che ad essere beneficiari sono proprio i comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 10.000. Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese ammissibili. Andiamo avanti con l'informazione, ci giungono buone notizie per quanto riguarda i contagi da Covid-19 in regione. La Task Force regionale fa infatti sapere che nella giornata di ieri 10 maggio sono stati processati ben 350 tamponi di cui 349 risultati negativi e un solo positivo nel comune di Tricarico. Lo ricordiamo nei reparti di malattie infettive ci sono 38 ricoverati al momento, in pneumologia 8, in terapia intensiva 1 e bisogna ricordare due persone guarite e nessun decesso al momento. Sicuramente dati confortanti che ci fanno sperare che verso una ripresa all'entra graduale per tutti i settori, per tutti noi, verso appunto una normalità tanto attesa ed anelata. Andiamo avanti e c'è una notizia che ci arriva da Ruoti in provincia di Potenza. Nel periodo della pandemia Domenico Nardiello insieme a Fernando De Carlo hanno ideato Radio Ruoti, una web radio volta a creare aggregazione tra i giovani del paese. Fernando è il presidente, Domenico ne è l'anima, uniti ad un team giovane accomunato dalla passione per la musica e l'intrattenimento. Oltre a Fernando e Domenico nel direttivo ci sono anche Antonello Guglielmi, Rosario Maitilasso, Luca De Carlo, Rocco Nardiello ed Antonio De Carlo. Tra gli speaker Luana Ricci, Gianluca Gentilesca, Gerardo De Carlo, Flavia Pizzuti, Madeleine Paternoster e Andrea Barbera. Il DJ è Pasquale Enrichetti, musicista Rocco Damiano, tecnico audio Carmelo Costantino e come web editor Melania De Carlo. Da sempre con la passione per la radio nel periodo del post-sisma, era il maggio del 1981, Domenico mise su Radio Odena che andò avanti per circa dieci anni, come ci racconta lui stesso. E' proprio a maggio di quest'anno, durante l'emergenza Covid-19, che pensa ad un progetto di aggregazione per i giovani di ruoti e non solo. E balza fuori nuovamente l'idea della radio. Pensiero condiviso con Fernando. Insieme hanno riunito tanti ragazzi del paese che si cimentano in programmi di vario genere, mettendo da parte la politica. Un ricco palinsesso, una radio inclusiva per tutte le età. Uno strumento di condivisione per gli appassionati di musiche non solo, visto che si spazierà in vari campi. Il presidente, Fernando De Carlo, spiega quanto sia importante all'interno dei paesi che vivono spesso nell'isolamento creare occasioni di confronto e condivisione. La radio è un'opportunità per far uscire allo scoperto i tanti giovani di ruoti e non solo, ci spiega il presidente. La radio è il teatro della mente. Facciamo un grosso in bocca al lupo a questi ragazzi e agli ideatori di Radio Ruoti per un futuro brillante. Io, come ogni sera, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani.